Ciao i coctel connoisseursi, mio nome è Gabriele Armani, sono bar supervisor in Paradiso, Barcelona e benvenuti a Paradiso Lab. Oggi faremo insieme l'Iden Island, uno dei coctelli del nuovo menù nel 2024 per Paradiso. È un coctel inspirato su Bimini Road. Nel nostro menù, tutti i coctelli hanno qualcosa di collegato al mistero del mondo. Quindi oggi rappresento il coctel inspirato su Bimini Road. Cosa abbiamo qui? Abbiamo il Bimini Road, rappresentato con una caccia. La caccia di Bimini Road è una caccia sotto il mare, in fronte del Bahamas. A circa 50 km di queste caccia, collocati una vicenda alla l'altra. E vogliamo ricreverlo con questa caccia, questa caccia di Bimini Road. Ok, cominciamo con il coctel. È un tipo di maitai, un po' più crema. Le principali ingredienti del coctel è una crema di rum. Con una crema di 5 peperi diversi, per dare il tocco. E il rum è infiuso con caccia di carol, per avere anche il dolore. Poi usiamo una crema di coctel con salicone. È un salato di caccia, un po' salto. E un lemongrass per dare un'acidità al coctel. La parte del coctel e la parte del coctel. E poi un po' di lemon juice, per la balanza. Cerchiamo il coctel con due ingredienti da Spagna. Abbiamo anche usato ingredienti da nostra regione e da Spagna. Quindi abbiamo 10 ml di Torre 15. Un po' di vino e un tocco di vino di Gerest. È un peperlo simile di Sherry. Perfetto. E poi, faremo un po' di vino. Perfetto. E poi, faremo un po' di vino. Il coctel è come una crema, magari con ceramica. Perfetto. E poi guarniamo il coctel con due ingredienti da Spagna. Ma sono fatti. Quindi abbiamo questi fatti fatti. Fatti 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 con mango, gelo. E un po' di vino di cider. Quindi vino di vino di vino. E un po' di vino. E poi finiamo con un chocolate. Un chocolate con un po' di matcha. E un po' di plantone. Quindi abbiamo questa sensazione di vedere la guarnizione. Il passo è di cominciare con il starfish. Quindi la prima parte della crema è il starfish. E poi il coctel. E finisci con il chocolate. Questo è il coctel. Grazie a tutti. Ciao, ragazzi.